Benvenuti nel mondo Breitling Breitling è un marchio fondato nel 1884 da Leon Breitling. L'azienda ha aperto il suo primo laboratorio a Saint-Igné, dove vennero sviluppati e prodotti i primi orologi Breitling, che hanno fatto la storia del settore. Gli orologi Breitling sono da sempre sinonimo di precisione, affidabilità e innovazione. La società ha sviluppato molti brevetti per la produzione di orologi di alta qualità, tra cui il cronografo a due pulsanti, che ha reso gli orologi Breitling famosi in tutto il mondo. Ma non solo precisione, gli orologi Breitling sono anche noti per il loro design iconico, caratterizzato da linee pulite e materiali di alta qualità. I modelli Nevitimer, Cronomat e Superocean sono solo alcuni dei più famosi e amati dagli appassionati di orologi. Breitling ha anche una lunga tradizione nella produzione di orologi da aviatore. Il Breitling Nevitimer, ad esempio, è stato progettato per aiutare i piloti a calcolare le rotte di volo, grazie alla sua scala di conversione di miglia nautiche in chilometri. Anche il Cronomat è un orologio d'aviazione. Nato nel 1941, questo modello introdusse la prima lunetta girevole bidirezionale ed è stato il primo orologio con regolo calcolatore circolare. Questo dispositivo permetteva di risolvere rapidamente un gran numero di calcoli atti alla navigazione aerea. Ma Breitling non si ferma qui. Infatti, nel 1995 produsse l'Emergency, un segnatempo unico al mondo, dotato di un trasmettitore di emergenza in miniatura che fornisce un salvagente vitale per i piloti e i viaggiatori in situazioni di emergenza. Questo orologio contribuì a salvare numerose vite nel corso degli anni. Breitling è un marchio di grande prestigio, con una lunga tradizione di innovazione e qualità. I suoi orologi sono sinonimo di precisione, affidabilità e design iconico, ed è per questo che sono amati e ricercati da collezionisti e appassionati in tutto il mondo.